Non ci pensi neppure ad abbracciarmi Ricevuto! Eddie, per favore, accompagna tua nonna nel palco reale Oh, bontà divina, sono perfettamente in grado di camminare Sei nervoso? Vuoi scherzare? Sono terrorizzato Capo, questa è la sua auto, non è vero? E' qui? Parcheggia Lapsan Soochong, con gli omaggi del signor Mu Magnifico Tesoro, tesoro, comincia lo show, va bene, non posso parlare adesso, devo andare Ma certo che ti amo, credi che ti comprirei degli orecchini di diamante? Dove sono i miei soldi? Ok, 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 ascolta, ascolta, io li ho, li ho forse, diciamo, spesi tutti, va bene? No, no, ti prego, ti prego, aspetta, ti darò i soldi, ti troverò, ti troverò 100.000 dollari E tu dove li trovi, 100.000 dollari? Moon, ok, Moon ha i miei soldi Chi è questo Moon? A tutte voi, creature grandi e piccole, do il benvenuto al Moon Theater Io sono il vostro ospite, Master Moon Ok, ammirate il primissimo palcoscenico interamente illuminato da energia calabresca Splendido ragazzi, ora venitemi dietro a tempo E come potete vedere, questo non è un teatro qualunque Questo è un regno di meraviglie, di magia Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta davvero Misericordia Siamo benvenuti al nostro primo concorrente Chi di voi è Moon? Ehi, 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 non potete piombare qui così? Questo lo conosci? Mike? Sì, Mike qui dice che ha i suoi soldi e che sono in quella cassa No, 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 aspettate solo un momento Quelli sono i soldi del premio e non sono di Mike A meno che non li vinca regolarmente L'idea, so, ok Ok, ok, ehi, 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 prendila Tutta la cassa, è tua, ok? È tua qui Aprila Aprila? Io, no, io? No, fra Ok, no, io sono, io, no, no, non ho qui le chiavi Quindi potreste tornare dopo Togliti di Mazzu No, 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 aspetta Ehi, ecco fatto Un energomero con una mazza A che servono le chiavi? Va bene, vediamo di risolvere la questione adesso Ma che cosa? Tutto qui Non c'è nient'altro Ha mentito Ha mentito a tutti noi Aspettate un attimo, posso spiegare? Il problema è fuori Questa è solo attrezzeria Allora dove sono i centomila dollari? Sta scherzando Non posso credere, si è partito fin dall'inizio Questa era una cassa di cioccolare Questa era solo Non c'è niente No! Ok, 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 Regi, bello, Regi! No! 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 Non se ne vada! Avete visto il mio occhio di vetro? Grazie a tutti!